Sono 3.912 nuovi casi di Covid-19 accertati nelle ultime ore in Abruzzo. Del totale 2.514 sono stati identificati attraverso test rapido. Il tasso di positività calcolato sulla somma tra tamponi molecolari 7.088 e tamponi antigenici 28.345 e pari all'11,04%. Si registrano 7 decessi recenti che fanno salire il bilancio delle vittime a 2.580. Gli attualmente positivi continuano ad aumentare ed arrivano a 57.620 più 3.238. Del totale dei casi attivi, 338 pazienti invariato sono ricoverati in ospedale in area medica e 35 più 3 ingressi sono in terapia intensiva, mentre gli altri 57.247 più 3.235 rispetto a ieri sono in isolamento domiciliare. I nuovi guariti sono 667. Alla luce dell'aggiornamento odierno in Abruzzo il tasso di occupazione dei posti letto sale al 19% per le terapie intensive, più 1% e resta fermo al 26% per l'area non critica, a fronte di soglie da zona arancione rispettivamente del 20% e del 30%. Il dato sulle terapie intensive è che solo negli ultimi due giorni è aumentato di 10 unità e in costante crescita. I pazienti in rianimazione sono aumentati del 46% negli ultimi sette giorni e del 67% nel giro di due settimane. Dei nuovi casi, 1.134 sono residenti o domiciliati in provincia di Chieti, 992 in provincia di Pescara, 885 in provincia di Teramo e 725 in quella dell'Aquila. 53 fanno riferimento a persone fuori regione, mentre per 123 sono in corso verifiche sulla provenienza. Sul fronte vaccinazioni, sabato prossimo si svolgerà nel lab del Parco della Scienza l'open night del vaccino. Dalle 20 alle 24, gli ultimi ingressi saranno consentiti alle ore 23, sarà possibile immunizzarsi presentandosi senza appuntamento. Saranno allestite sette linee dedicate alla fascia di popolazione dai 12 anni in su. 103.975 vaccini, di cui 9.100 prime dosi, 8.082 seconde dosi, 86.793 terze dosi, per una media di 3.585 dosi al giorno in 29 giorni lavorativi. Questi i numeri della campagna vaccinale della Asle di Pescara dal 1 dicembre 2021 al 10 gennaio 2022, la stessa al fine di agevolare quanto più possibile i cittadini che necessitano della vaccinazione anti-covid in collaborazione con le amministrazioni comunali della provincia, ha organizzato nuove open day, sabato 15 gennaio a Pianella e sempre sabato, ma il 22 a Cepagatti.